Terzo è il fatto perché non mi dicevo oggi alle note, perché bisogna dichiarare tutto, lo dichiaro, è perché devo andare all'ospedale e mio fratello ha avuto mezz'anno fa un sciocco profilatico e siccome sono quello che può seguire il pubblico capirete se le note vado all'ospedale. Io l'ho chiuso. Per togliere, per togliere, per togliere. Per togliere, per togliere.